Con questo video tutorial andiamo a vedere come pagare la tassa dei servizi amministrativi, servizi di segreteria per la partecipazione al concorso docenti per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Stessa procedura dovrà essere fatta per la partecipazione al concorso ordinario infanzia e primaria. Dunque scendendo sugli approfondimenti, andate a vedere tutti gli approfondimenti, andate su servizi online, alla lettera P andate a vedere piattaforma, concorsi e procedure selettive. Andando al servizio si entrerà in una pagina in cui con lo speed entrerete sulla piattaforma concorsi e procedure selettive. Una volta che è stato consentito entrare nella piattaforma, fate a consento ed entrerete proprio nella piattaforma procedure selettive. Nel precedente video tutorial avevamo già compilato la domanda il suo stato era in bozza. Dunque possiamo proseguire la compilazione, vai alla domanda, vedete avevamo scelto il Lazio, si può procedere andando avanti e andando alla pagina dei dati e poi di nuovo avanti per andare alla compilazione delle sezioni. Arrivata alla compilazione delle sezioni, se si scende in basso andrete a trovare un link in blu, scritto in bianco, sfondo blu, dove potete procedere all'emissione del bollettino per il pagamento dei diritti di segreteria previsto per la partecipazione al concorso. Facendo clic si entra in questo bollettino che è già stato diciamo così emesso e potete fare conferma del pagamento. Andando alla conferma del pagamento vi verrà chiesto di entrare con lo speed oppure di entrare con la propria mail per pagare queste 20 euro che sarebbero 10 euro per il concorso della classe di concorso e 10 euro per il posto di sostegno. Chiaramente se avessi inserito anche una classe di concorso di primo grado avrei pagato 30 euro e se avessi inserito anche il sostegno per il primo grado avrei pagato il massimo di 40 euro. Facendo con PagoPà io entrerò direttamente a pagare e quindi avrò la ricevuta del bollettino che poi potrò applicare nella domanda a altre dichiarazioni dove si chiede di dichiarare di aver pagato i diritti di segreteria. Speriamo che questo video tutorial sia chiaro per tutti i nostri telespettatori e la stessa procedura, ripeto, va fatta anche per la scuola dell'infanzia e primaria per chi concorre per il ramo scuola dell'infanzia e primaria. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.